Ehi, sono Flavio, il Meeple con la camicia e benvenuto a questa nuova puntata in cui ti darò l'anteprima di un gioco che andrà a breve su Kickstarter, secondo capitolo di una dichiarata trilogia partita l'anno scorso con Mistia. E sto parlando di Icaion, un gioco sulla selezione delle azioni e gestione delle risorse, da 2 a 4 giocatori e della durata approssimativa di 90-120 minuti. Ora, andiamo a vedere brevemente come funziona senza andare incontro a tutte le regole, dopodiché torniamo qui e ti dico che cosa ne penso. Ed eccoci qui di nuovo su Icaion. Innanzitutto fammiti dire che tutto quello che vedi sono componenti di un prototipo. Nulla è finito, come la grafica, i componenti che vedi sono stati presi comunque da altri giochi. Alcune delle miniature che mi hanno mandato come esempio non saranno un prodotto finito, ma sicuramente fanno la loro figura e sono già bellissime così, come la grafica di alcune carte, ma siamo sicuri che verrà comunque migliorata. Queste rappresentano macchine che i giocatori possono mettere sul tabellone e avranno sicuramente un aspetto diverso, saranno sicuramente delle miniature. Mi hanno mandato anche degli standies eventualmente che avrei potuto utilizzare sul tabellone, ma ci piace il legno. Ti faccio vedere comunque più o meno come sarà il prodotto finito, anche se questa è un'immagine in realtà. Sono sicuramente molto molto carini e le miniature ovviamente assomiglieranno a queste immagini. Quindi mi raccomando, tieni in mente che questo è un prototipo. Durante la preparazione viene messo il colosso in uno di questi enormi crateri a caso e a fianco vengono messi questi che rappresentano i parassiti che il colosso sputa a destra e a sinistra. Qui al centro dove c'è la città vengono messe queste tessere che possono essere collezionate durante la partita. I giocatori poi mettono questi pezzi di un giocatore non giocante in partite a tre o due giocatori per far ridurre un pochino la mappa. Vengono messi poi i quom che sono queste risorse, vengono date le plance ai giocatori, le carte personaggio e una carta aggiuntiva che determina il numero di carte massime che si possono tenere in mano, il numero di carte migliorate che si possono avere e le risorse di partenza. E poi qui di lato c'è questa plancia che è la plancia dove verranno messe tutte le carte evento, dove ci sono le carte colosso che sono queste qui che vengono aggiunte ogni era nel mazzo e servono essenzialmente per farlo muovere e fargli fare danni. I giocatori hanno le proprie plance con i propri componenti poggiati sopra e come abbiamo visto già in altri giochi questa meccanica è interessante dove una volta che posizioniamo un componente sul tabellone si sblocca un'abilità oppure si migliora un'azione, la carta personaggio, le risorse di partenza e dove tenerle, le carte curio che sono essenzialmente delle carte azione, delle carte bonus che si possono utilizzare in determinati momenti della partita. E poi questo che è il segnalino energia di emergenza con il numero essenzialmente del turno del giocatore che vengono dati casualmente e possono essere utilizzati per fare delle azioni migliori e una volta utilizzati si capovolgono e potranno anche essere ricapovolti per utilizzarli di nuovo. Su questa plancia invece come avveniva in Mistia vengono scoperte le carte regione, hanno una meccanica leggermente diversa ma la plancia bene o male funziona allo stesso modo. Il gioco dura tre anni, non davvero tre anni ma tre anni diciamo nel mondo di Icaion. Ogni anno è diviso in tre fasi, la fase di inizio dell'anno, la seconda fase che è quella durante l'anno e quella della fine dell'anno. All'inizio dell'anno si prende la carta colosso dell'anno in corso e viene mischiata insieme al mazzo delle regioni. Quindi questo viene rimesso sulla plancia. Poi si selezionano casualmente tanti frammenti primordiali senza guardarne il valore che è sotto in base al numero dei giocatori, una per giocatore, in partita due giocatori se ne selezionano comunque tre. E vengono messe senza guardarle all'interno della base del colosso. Che figata eh? Quindi nella fase 2 i giocatori svolgono turni nell'ordine indicato dalle tessere che si trovano in cima alla loro plancia fino a che non avviene la fine dell'anno, cioè quando viene scoperta la quinta carta su questa plancia. Il giocatore di turno per prima cosa pesca una carta e la mette nel primo spazio libero a sinistra partendo dalla riga superiore. E se è una carta regione, come in questo caso, vengono messi tanti quom indicati dalla carta regione quanto il numerino indicato qui in alto a sinistra. C'è comunque un limite di quom che può esserci in ogni regione ed è in base al numero dei giocatori. Se poi lo spazio dove è stata messa la carta regione ha anche il simbolo di un parassita, bisogna mettere un parassita in ognuna di quelle regioni. Quindi uno qui, uno qui e uno qui. E anche i parassiti nella versione finale non saranno questi cubettini ma delle miniature super fighe. Qualora venga messo il quarto parassita in una regione, tutte le macchine in quella regione vengono distrutte e rimosse dal gioco. I parassiti invece vengono rimessi nella riserva. Se poi un giocatore è adiacente a quella regione dove sono stati messi quattro parassiti, viene ferito. Se un giocatore viene ferito può decidere di scartare una delle sue carte curio per evitare la ferita. Oppure deve mettere il suo personaggio sdraiato. Quando tornerà il suo turno può metterlo in piedi ma sarà limitato a fare un movimento base e non potrà fare azioni speciali. Se invece in questo caso viene pescata una carta colosso e prendiamo per esempio quella dell'era 2, dell'anno 2, qui sotto ci sono indicati i movimenti e le azioni che svolge da sinistra verso destra. E il movimento è indicato su questi spazi sulla plancia nell'angolo in basso a sinistra. I movimenti che fa attorno ai crateri. Può succedere che si sposti semplicemente oppure che si sposti e attacchi chi ha adiacente, come in questo caso. Oppure che si sposti e sputi fuori un pochino di parassiti. Me lo immagino che va in giro e tossisce. E quindi in ordine di turno i giocatori fanno le proprie azioni. La prima cosa che deve scegliere un giocatore è se accamparsi oppure muoversi attraverso questi snodi. Questa è una decisione molto importante. La qualità delle proprie azioni poi è indicata dagli spazi che sono stati liberati sulla propria plancia. E le azioni sono quelle di estrarre le risorse, quindi il quom, dalle regioni che ci sono adiacenti al proprio personaggio. Mettere in campo una delle proprie macchine. Eliminare i parassiti. E tenerli da parte perché servono per il punteggio alla fine dell'anno. Investigare il colosso per cercare di prendere questi frammenti. Oppure cercare di prendere uno di questi componenti qui dalla città per poterlo aggiungere alla propria plancia. Essenzialmente questi danno la possibilità di ottenere punti vittoria a fine partita. Quindi diciamo degli obiettivi da seguire. Quindi installare effettivamente sulla propria plancia questi apparati. Oppure semplicemente rimanere in guardia e non compiere azioni principali. C'è la possibilità poi di fare delle azioni speciali prima o dopo l'azione principale, che comunque è obbligatoria. Una delle azioni speciali è quella di utilizzare e capovolgere questo segnalino per sovraccaricare i propri macchinari e ottenere più risorse. Oppure per pescare due carte curio. Oppure per fare di nuovo un'azione principale. Un'altra azione speciale che si può fare è quella di utilizzare una carta curio, che ha un costo e un beneficio. Quando poi viene scoperta la quinta carta regione, c'è l'ultimo round. Viene svolto e quindi c'è la fine dell'anno. Durante la fase fine dell'anno i giocatori contano quanti parassiti sono riusciti a eliminare dal tabellone e ottengono un tot di punti vittoria in base a questo valore. Quindi c'è una piccola preparazione per l'anno successivo oppure se è l'ultimo anno il conteggio finale dei punti. Quindi a fine partita si ottengono punti in base a quante risorse sono rimaste sulla propria plancia, in base a quanti di questi frammenti sono stati presi dal colosso e ovviamente in base a questi apparati che sono stati installati sulla propria plancia. Volendo fare un esempio di turno di gioco, il giocatore giallo è primo nel turno e si trova a fianco al colosso. Deve decidere se accamparsi oppure muoversi e decide di muoversi. Il suo movimento è indicato da questi simboli sulla plancia, quindi si può spostare fino a due spazi, fino a due snodi e decide di spostarsi qui. Quindi ora deve fare la sua azione principale e volendo può fare un'azione speciale. Come azione principale decide di fare un'azione di raccolta e quindi prende un quom da ogni regione adiacente che sono queste due. Quindi prende questo qui e questo qui e li mette in uno spazio libero sulla sua plancia che sono essenzialmente questi qui, poi altri vengono sbloccati. In caso fossero tutti pieni il giocatore deve scegliere se mettere quelli appena ottenuti in uno spazio occupato svuotandolo prima oppure scartare quelli ottenuti e tenere quelli che aveva già. Come azione speciale decide di capovolgere questa sua tessera e utilizzarla per svolgere un nuovo turno con una nuova azione principale senza poter svolgere però un'altra azione speciale e decide di investigare il colosso. Quando si investiga il colosso il giocatore uno di questi frammenti e ne rivela il numero e può spendere un numero di quom rosa presi dalla sua plancia fino al numero indicato sul frammento ottenendo un punto vittoria per ogni quom rosa speso in questo modo. Se poi il giocatore riesce a raggiungere il numero sul frammento può prendere anche il frammento e aggiungerlo alla sua plancia e come puoi vedere dagli spazi non ne può avere più di 5. Ovviamente per poter fare questa azione bisogna essere in uno snodo adiacente al cratere dove si trova il colosso. Allora proviamo con questa e riveliamo il valore che è 3. Che fortuna perché il giocatore attualmente ne ha 3 e quindi li spende e li rimette in riserva. Ottiene quindi 3 punti vittoria. Ecco qua. E può prendere questo frammento e metterlo sulla propria plancia. eccoci qui. E adesso ti parlo di questo gioco seguendo la mia personale classifica di cose che secondo me un gioco dovrebbe avere. Tenendo presente comunque che stiamo parlando sempre di un prototipo. Quindi cambierà durante la campagna Kickstarter. Anche dopo. Insomma prima che arriverà nelle nostre case. Quindi è sì un mio parere ma basato comunque su un prototipo. Partiamo ovviamente dai buoni componenti. Che nonostante si tratti di un prototipo i componenti sono davvero buoni. La tabula games mette su dei prototipi davvero eccezionali per dare la possibilità a noi che poi ne parliamo di mostrare non dico un prodotto finito ma quasi. Mi è capitato addirittura di mischiare per sbaglio le carte di Mistia con quelle di Icaion e non riconoscerle. Se non per il fatto che quelle di Mistia ovviamente hanno il line in finish. Ora sono sicuro che poi a prodotto finito questo avrà una qualità pazzesca come effettivamente è la qualità di Mistia che puoi andare a vedere se non ce l'hai. Se non hai effettivamente il gioco o non l'hai visto da qualche amico puoi andare a vedere nel video tutorial. Sì nel video tutorial scusami nell'unboxing che ho fatto. Ci sarà anche un video tutorial prima o poi. Cliccando sul link in alto quella in descrizione. Quindi sono sicuro che i componenti saranno davvero ottimi. Ora il tema legato le meccaniche. Qui siamo sul mondo di Icaion. Siamo questi seekers, questi cercatori che devono, vanno alla raccolta essenzialmente di questa risorsa, il Qom, per cercare di studiare questo enorme colosso che gira per il mondo. Il tema è molto interessante. Sicuramente il colosso aiuta a far uscire un pochino fuori il tema. Però poi andandolo a guardare si tratta semplicemente di un gioco molto astratto in cui dobbiamo raccogliere risorse e spendere risorse. La particolarità ovviamente della plancia che costruendo questi edifici si sbloccano delle azioni. Una meccanica conosciuta, una meccanica che funziona è sicuramente interessante. Questo gioco è troppo dispersivo? Ma no, non direi perché le regole sono davvero pochissime. Quello che puoi fare non è tanto da non avere un'idea di dove andare a parare. Vero è che potrebbe essere facile non intuire subito dall'inizio che l'obiettivo primario e unico per fare tanti punti è quello ovviamente di puntare al colosso. Perché è quello ovviamente che ti fa fare molti punti, specialmente poi con le tessere prese al centro della città che ti moltiplicano i punti sui frammenti. Questo gioco è adatto a tutti i tipi di esperienze? Sicuramente sì. Non trovo un grande vantaggio nel conoscere il gioco ma proprio perché è un gioco molto semplice e se chi spiega il gioco spiega anche a chi lo sta giocando per la prima volta che l'obiettivo primario è proprio il colosso, oltre a tutto il resto di contorno ma l'obiettivo primario è quello, sicuramente il divario non è tantissimo. Regolamento comprensibile, schede di riferimento veloce, simboli chiari. Il regolamento è ancora in fase di prototipo però comunque non è male, sicuramente ci saranno più esempi, più immagini soprattutto e quindi sarà di una lettura e comprensione molto più facile rispetto a quella che è stata il prototipo che comunque ti ripeto è andata abbastanza liscia. Schede di riferimento non ce ne sono per ora ma sono assolutamente necessarie specialmente per l'effetto delle gemme, per le variazioni che si possono fare, gli effetti della plancia, delle azioni, come cambiano quando tu costruisci degli edifici, gli effetti degli edifici, sicuramente c'è bisogno di schede di riferimento. I simboli, a differenza di quello che è stato Mistia che ci ha proposto dei simboli nuovi, mai visti e un po' complessi da digerire, in questo caso sono molto più semplici, alcuni sono familiari anche se conosci Mistia, ma sicuramente si digeriscono molto più facilmente e poi non sono neanche tantissimi. Ora la casualità bilanciata al determinismo, beh questo è un gioco molto più deterministico, nonostante quando si scoprono le carte regione e quindi la carta colosso, il colosso possa spostarsi e quindi te lo perdi e devi spostarti di nuovo per raggiungerlo, però diciamo che più o meno lo puoi prevedere. Crea un pochino di variabilità durante il gioco, questa scoperta di carte, però tendenzialmente è un gioco molto più deterministico. La curva di apprendimento, apprendere questo gioco è davvero semplice perché le regole sono poche e facili. L'interazione, l'interazione in questo gioco sicuramente con più giocatori è più presente perché più giocatori al tavolo ovviamente prendono più risorse, costruiscono di più, quindi fanno pagare di più eventualmente agli altri la costruzione di edifici, ci sarà ovviamente una corsa da parte di tutti verso il colosso, quindi diciamo che è interazione diretta ma sicuramente più presente con un numero maggiore di giocatori. In due giocatori è un gioco un po' più tranquillo, diciamo, ci si dà meno sportellate. La variabilità al setup. Per ora, per quello che è, la variabilità è poca, nonostante le carte regione vengano mischiate, nonostante le abilità dei personaggi che vengono date all'inizio della partita, che sicuramente sì, danno un pochino di diversità di partita in partita, o meglio un indirizzo, perché ovviamente se hai la macchina sai che punterai molto e subito sul colosso, magari se hai un altro tipo di personaggio che ti fa muovere, sai che potrai saltare da una parte all'altra in determinati momenti, quindi sì, un pochino di variabilità c'è, ma sicuramente sarebbe bello averne molta di più. E sono sicuro che durante la campagna Kickstarter si sbloccheranno tante tante altre cose. In definitiva, che cosa penso di questo gioco? È un gioco sicuramente molto più sul lato Family Game, perché è un gioco molto semplice, rispetto poi a Mistia, poche regole, sicuramente ci si trova subito familiarità, è un gioco sicuramente che sarà spettacolare da vedere, è un gioco che è abbastanza divertente, è un gioco che ha bisogno ovviamente di variabilità per renderlo sempre divertente ogni partita. È un gioco che bene o male possono sicuramente fare tutti quanti, è adatto a tutti. Vedremo poi quale sarà il prezzo effettivo, è una cosa molto importante, che questo gioco, che è il secondo capitolo di una trilogia, come ti ho detto, sarà su Kickstarter insieme a un altro gioco, che si chiama Mistia The Fall, che è essenzialmente il terzo capitolo della trilogia. E che cos'è questo gioco? Questo gioco essenzialmente è la commissione di Mistia e Icaion, in un gioco cooperativo. Quindi questo gioco servirà per creare insieme a Mistia quest'altro gioco, di cui parlerò in un'altra video anteprima, che puoi andare a vedere cliccando in alto in descrizione. Che è una cosa davvero molto interessante e che non mi pare di aver mai visto fino ad adesso. E questo è tutto, io ti ringrazio per aver guardato quest'altra puntata, se hai dubbi o domande di qualsiasi tipo mettile nei commenti e io risponderò appena possibile. Ti ricordo che se ti piacciono i video che faccio, considera l'idea di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella, così ogni volta che ne pubblico uno ti arriverà una notifica. Io sono Flavio, il Meeple con la camicia, e ci vediamo alla prossima.